Rosalinda Cannavò difesa da Andrea Zenga. Al GFVIP è stata la più vera. Rosalinda Cannavò è stata criticata da Jessica Selassie. Andrea Zenga la difende. La più vera del GFVIP. Andrea Zenga sorpresa è stato ospite di una nuova puntata del format Casa Chi. Che vede al timone la sua fidanzata Rosalinda Cannavò. L'ex GFino quando gli è stato chiesto di esprimere un parere riguardo al fatto che una delle principesse ha ilé Selassie. Cioè Jessica. Concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia criticato la sua amata non ha perso tempo per rispondere. Andrea ha difeso ovviamente l'attrice siciliana di cui si è innamorato nella casa di Cinecittà. Pronunciando le testuali parole. Il suo percorso al GFVIP è stato uno dei più veri e sinceri. Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò svela. E' quella che si è messa più in gioco al GFVIP. Dopo la partecipazione al GFVIP. Tra le tante soddisfazioni lavorative dell'attrice siciliana Rosalinda Cannavò c'è quella di essere alla conduzione del programma Casa Chi. L'ex GFVIP. L'ex GFina ha intervistato il suo fidanzato Andrea Zenga. Dopo aver creduto che l'ospite della nuova puntata fosse stata la sua ex compagna di gioco Maria Teresa Ruta. Per iniziare sullo scherzo da parte del suo amato, Rosalinda ha ammesso. Amore ma che ci fai qua? Potevi metterti una parrucca. Ci sono cascata in pieno. A questo punto l'attrice ha svelato un retroscena. Dovete sapere una cosa. Io sono molto timida soprattutto con le persone a cui voglio bene. Quando devo registrare casa chi lo mando praticamente fuori di casa Andrea. Successivamente Andrea Zenga quando è stato invitato a rispondere a Ciò che ha detto Jessica Aile Selassie è una concorrente del GFVIP 6 sulla sua fidanzata. Ha detto Innanzitutto non vedo l'ora di vedere la puntata in cui le principesse saranno invitate a casa chi? Mi sembra il giudizio più superficiale che si possa dare. Rosalinda al GFVIP è quella che si è messa più in gioco. Rosalinda Cannavo è elogiata dal fidanzato Andrea Zenga. Mi piace molto anche come conduttrice. Andrea Zenga a questo punto ha elogiato la sua amata Rosalinda Cannavo dichiarando Devo dire che mi piace molto anche come conduttrice. La apprezzo in ogni suo talento. Sa fare un po' tutto La replica dell'attrice siciliana che di recente non ha nascosto la sua preoccupazione è stata Nonostante non lo coinvolgo particolarmente tanto proprio per questo limite caratteriale che ho Lui è il mio primo fan che mi sostiene. Supporta e aiuta in tutto Ecco per penny che togliere la stelle e aiuta in cui viag Deve aver Segurato le scuole 20 minuti Fu a tutti Dove base una totesias